Musica Bentornati ragazzi! Sono tornato anche io perché purtroppo sono stato male, ho avuto la febbre e anche un discreto virus intestinale che tra l'altro mi hanno impedito di dare l'ultimo esame all'università, quindi sono rimasto un esame indietro perché mi sono ammalato proprio nel momento in cui avevo finito di studiare, dopo i 5 minuti ho sentito che mi saliva proprio un 39 e mezzo di febbre purtroppo la sfiga mi ha colto nel momento migliore comunque torniamo al mondo che ci piace, ovvero al mondo dei Pokémon sono su Serbi per farvi vedere che la rivista giapponese Koro Koro, molto nota anche qua in occidente ha inoltrato una notizia molto molto interessante come potete vedere è raffigurato un nuovo Pokémon il suo nome è Magiana anche se in realtà la G in giapponese è solamente gutturale quindi si dovrebbe pronunciare G quindi la pronuncia giusta di questo nuovo essere, di questo nuovo Pokémon anzi dovrebbe essere Magiana comunque questo Pokémon era stato rivelato solamente tramite la sua ombra cioè la figura nera solo la sua ombra e io ho scrissi su Facebook che mi sembrava la fusione tra Mega Gardevoir tra la gonna di Mega Gardevoir, ovvero la parte inferiore del corpo di questo Pokémon anche perché c'ha sotto i piedi, che sembrano proprio quelli di Mega Gardevoir più le orecchie di un coniglio e un po' sembrava così, ci avevo azzeccato perché ha questa specie di sottoveste enorme però completamente in acciaio a differenza di quella di Mega Gardevoir e comunque le orecchie più o meno mi ci sono avvicinato come dissi poi la prima volta che vedi l'immagine per intero sottolineai che somigliava alla fusione tra un Diense perché la postura, il design è quello più la testa, anzi più Clink che va praticamente a formare la testa di Magiana questo nuovo Pokémon o Magiana infatti molti si sono un po' stizziti per via di questo fatto ovvero che sembra la fusione e l'unione di due Pokémon ovvero Diense più Clink oppure Clank oppure Clinkclank insomma uno dei tre ingranaggi in effetti è un po' così anche perché il petto centrale la seconda sfera, quella sotto la faccia e sopra la gonna metallica sembra un po' una mega pietra ho notato non vorrei che fosse tipo un Pokémon, un Mega Pokémon ma penso di no anche perché di solito quando rivelano dei nuovi Pokémon lo fanno prima rivelando i Pokémon leggendari ed è collegato anche a Volcanion perché ho letto che sarà parte di un nuovo film insieme a Volcanion e di conseguenza penso che sia effettivamente un Pokémon leggendario a molti non piace perché pensano che la fantasia della Game Freak ormai sia giunta alla frutta ma questo si era visto anche durante l'esposizione dei Pokémon della quinta generazione dove sono presenti degli aborti che personalmente io non so come abbiano fatto a partorirli poi per fortuna la sesta generazione è andata più che bene direi perché quasi tutti i Pokémon a parte Bynacol, Barbaracol mi piacciono questa settima generazione come penso che sia di cui faccia parte questo Pokémon io mi aspetto comunque tanto visto che la sesta comunque è stata una bella generazione non solo per le novità, il Wi-Fi e tutto quanto io penso che questo Pokémon sia esteticamente bello ma poi chiaramente sono gusti tipo a me il giallo sul grigio mi piace molto anche l'azzurro ravvicinato al grigio chiaro o anche al bianco mi piace molto di conseguenza Magiana è un Pokémon che io apprezzo inoltre ha questo viso particolarmente dolce perché è un Pokémon che io esteticamente trovo anche molto carino e queste orecchie da coniglio me le devo ancora spiegare anche perché ha la faccia di un ingranaggio comunque nella descrizione c'era scritto che questo è un man-made Pokémon ovvero un Pokémon costruito dall'uomo e quindi penso che Magiana sarà un Pokémon estremamente importante per l'equilibrio dell'umanità e perciò sia a favore dell'uomo anche perché dall'aspetto, dall'estetica si vede che è un Pokémon buono e non cattivo perciò servirà a sconfiggere un nemico forse Volcanion come ho detto prima sarà parte del nuovo film e penso anche che sarà un Pokémon di una nuova generazione quindi anche di nuovi giochi ovvero della settima generazione Magiana è il nome giapponese mentre il nome americano non si sa poi il tipo, nemmeno quello si conosce ma siamo abbastanza sicuri che se dobbiamo proprio spararne uno è il tipo acciaio sarebbe il tipo acciaio sicuramente forse è il tipo Folletto per via anche del tipo grazioso dell'aspetto grazioso perciò il tipo acciaio Folletto che è un ottimo tipo sia dal punto di vista offensivo e difensivo sia quello più congeniale a questo Pokémon la classificazione man-made Pokémon ovvero un Pokémon costruito dall'uomo è alto un metro e pesa 80 kg e mezzo è obeso infatti, no scherzo è molto pesante come si può ben vedere è abbastanza grosso e Magiana qui c'è scritto appunto creato 500 anni fa possiede un corpo metallico ed è stato costruito da mani umane è un Pokémon mitico quindi è un Pokémon sicuramente leggendario e queste direi che possiamo anche concludere qua erano le news che vi avevo promesso all'interno delle trailer che ho messo nel canale all'inizio del 2016 poi come ho detto non sono stato bene di conseguenza non ho portato video ma ci sarò anche se poi mi ricominceranno le lezioni almeno non avrò gli esami e nei giorni in cui starò a casa sarò libero di fare video adesso ancora sono in fase di convalescenza ero così debole i giorni precedenti che non riuscivo ad aprire una bottiglia d'acqua figuratevi quanto sono stato male mi mancava la forza bene dopo queste news io vi saluto e vi auguro buone proseguimento